Buongiorno a tutti, oggi vi parlerò dei progetti di ricerca che sta conducendo IAS Progress. Nella fattispecie ultimamente siamo coinvolti nello studio sviluppo di una stazione di soldatura laser ibrida, ovvero costituita da un sistema laser in fibra che sfrutta una sorgente a riterbio collegata con un sistema di saldatura ad arco elettrico filo continuo per la realizzazione di saldature su leghe di alluminio, spessori variabili tra i 5 e i 15 mm. Il progetto è un progetto abbastanza complesso in quanto ha richiesto la progettazione sia di una maschera di fissaggio per riuscire a mettere insieme le due sorgenti, quindi sia la testa laser che la sorgente, la testa del filo continuo e inoltre ha richiesto anche una progettazione della maschera di fissaggio per appunto il fissaggio della mirina saldare. Queste prime fasi sono state appena concluse, abbiamo appunto definito una configurazione ottimale per la realizzazione del processo, adesso inizierà la parte complicata ovvero definire parametri di processo ottimali, quindi corrente, potenza del laser, velocità d'avanzamento per riuscire a ottenere dei giunti privi di difetti e anche con delle velocità di produzione abbastanza elevate. Il progetto prevede poi anche una parte di analisi dei fumi, quindi saranno anche studiati gli aspetti di impatto ambientale del processo stesso sull'operatore, sull'ambiente ed è quindi un progetto completo che prevede sia la parte tecnica che la parte ambientale. Il progetto si concluderà fra pochi mesi per cui nelle prossime settimane saremo fortemente impegnati nella ricerca dei parametri di saldatura ottimali e per questo vi rimandiamo poi al prossimo appuntamento dove speriamo di farvi vedere qualche risultato del progetto. Grazie.